C'era chi, al posto del parente malato, faceva assistenza a qualche abitante dell'isola di Cuba, magari in compagnia di una bottiglia di Havana, oppure qualcun altro, Sandro Bisonni, consigliere regionale ex Movimento 5 Stelle, ora gruppo misto, che organizzava incontri e meeting per la campagna elettorale. Tutto legittimo se fatto a spese proprie, meno se fatto a spese dei contribuenti, utilizzando i permessi e i congedi della legge 104 che garantisce l'assistenza ai parenti disabili. L'inchiesta della Procura di Macerata, eseguita dalla Guardia di Finanza, va ad alzare il velo su un fenomeno diffuso e che ha portato tre denunce per truffa continuata aggravata ai danni dello Stato. Due docenti, uno in aspettativa, Bisonni appunto, e una dirigente scolastica accusata di fare vacanze al Sud Italia, sempre a spese dei cittadini. Si dichiara innocente Bisonni, sono assolutamente tranquillo, le notizie apparse oggi su un'indagine nei miei confronti, dice, mi rattristano perché sono assolutamente sicuro della mia innocenza. Auspico che questa vicenda si chiarisca quanto prima proseguirò a svolgere il mio impegno di consigliere regionale con serenità e coerenza. In definitiva sono risultate 151 le giornate di permesso di congedo richieste all'ufficio scolastico per l'assistenza in favore dei congiunti disabili che i tre indagati avrebbero indebitamente utilizzato. Il Procuratore della Repubblica, Giovanni Giorgio, ha chiesto e ottenuto il sequestro preventivo delle somme corrispondenti alle indennità percepite per le giornate di indebita assenza, pare complessivamente per i tre a oltre 10.000 euro in vista della loro possibile confisca in caso di sentenza di condanna.